Ciao a tutti, sono Niccolò di Eunova, una società che sviluppa software e applicazioni e il nostro primo progetto è Arica, un'app per trovare il taglio e il parrucchiere ideale. Trovare il taglio di capelli ideale non è facile, come potete vedere io non ne ho ancora trovato uno, ed è per questo che la mia ragazza un paio di anni fa è venuta da me e mi ha detto sarebbe bello avere uno strumento per vedere le foto dei tagli reali fatti dai parrucchieri vicini. Io ho detto bella idea, facciamolo. Ho messo insieme un team di ingegneri, sviluppatori, graphic designer e insieme dopo più di due anni di lavoro siamo arrivati a lanciare Arica un paio di mesi fa. Arica significa in turco meraviglia ma anche sogno e quindi da oggi è anche un'app per trovare il parrucchiere ideale. Su Arica potete vedere un'ampia galleria di tagli di capelli fatti dai parrucchieri vicino a voi e sono immagini reali, cioè sono i tagli reali fatti dai parrucchieri vicino a voi, non sono foto scattate a delle modelle in degli studi fotografici a Parigi, sono le foto proprio scattate dal vostro parrucchiere sotto casa. Così quando andate da un parrucchiere scegliendo un certo taglio su Arica avete la certezza che quel parrucchiere sappia davvero fare quel taglio. Cliccando su una foto vedo sotto alla foto vedo il nome del parrucchiere che ha fatto questo taglio. Cliccando su questo nome vedo una pagina dove c'è, ci sono tutte le foto fatte da questo parrucchiere, tutti i suoi tagli, ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno, gli orari, la mail, il numero di telefono, potete cliccare per prendere un appuntamento, i prodotti che utilizza, ci sono le informazioni sul salone, la storia eccetera, c'è il listino prezzi con tutti i servizi che offre questo parrucchiere e la mappa, cioè dove si trova il parrucchiere. Potete anche seguire il parrucchiere cliccando sulla stellina, in questo modo rimarrete aggiornati su tutte le notizie ed aggiornamenti su questo parrucchiere, ad esempio le offerte che vuole lanciare. Inoltre su Arica trovate un elenco di tutti i saloni per cui li potete ordinare per prezzo e distanza da dove vi trovate e potete selezionare anche uno specifico servizio a trattamento tipo lo shampoo, lo chatouche e vedere quali parrucchieri vicino a voi fanno quel trattamento lì, comparare i prezzi eccetera. Inoltre c'è una mappa che vi fa vedere tutti i parrucchieri vicino a voi e ci sono le classifiche, che sono classifiche sia di tagli sia di parrucchieri, per cui potete vedere quali tagli vanno di moda nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e quali parrucchieri stanno andando particolarmente bene vicino a voi. Abbiamo lanciato Arica da neanche due mesi, però stiamo già avendo un grandissimo successo, abbiamo più di 1500 download, quasi 30.000 page views sul sito, abbiamo più di 70 parrucchieri iscritti e ogni giorno riceviamo richieste da nuovi parrucchieri che vogliono iscriversi. Quindi davvero un grande successo e quello che adesso speriamo è che Arica diventi ciò che è nata per essere, cioè un'app che possa davvero rivoluzionare e modernizzare il settore dell'airstyle non solo qua in Italia, ma potenzialmente anche in Europa e nel mondo. Ovviamente è un sogno molto ambizioso e abbiamo ancora tantissima strada da fare, però intendiamo provarci con tutte le nostre forze. Grazie Daniele, ciao a presto!